È un grande orgoglio per noi il fatto che il Ministero della Cultura, attraverso il CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, abbia scelto proprio la città di Trapani per ospitare questo evento nazionale importantissimo, molto prestigioso, che sono gli Stati Generali dei Patti per la Lettura. Un evento che il Ministero organizza ogni anno, l'anno scorso è stato ad Assisi, l'anno prima a Taormina, e che raduna attorno ad un tavolo tante personalità importanti nel mondo delle biblioteche, della lettura, intellettuali, per ragionare sul futuro e sulle azioni di sviluppo che vanno fatte per promuovere il libro e per anche modernizzare il concetto di biblioteche. Saranno presenti a Trapani, oltre che rappresentanti istituzionali del Ministero, anche degli esempi di successi, che sono la rete delle biblioteche di Venezia, di Pescara, ma anche esempi virtuosi del territorio, ci saranno anche, si parlerà dell'arte bonus per le biblioteche, e tutto questo ci hanno scelto a Trapani perché in questi cinque anni noi abbiamo iniziato un ragionamento davvero virtuoso, abbiamo tenuto il titolo di Città che legge, abbiamo costituito diversi patti per la lettura, il Comune di Trapani è aderito alla rete dei festival letterari, abbiamo fatto la prima mappa dei festival letterari che abbiamo promosso attraverso il distretto turistico in tantissime fiere, e poi abbiamo anche, siamo candidati a Trapani Capitale del Libro. Tutto questo malgrado che la biblioteca fardelliana abbia un seri problemi. La biblioteca fardelliana non ha problemi, è viva, è vegeta, sta facendo dei lavori che stanno per terminare, e avrà ottenuto un finanziamento di oltre 350 mila euro per renderla più accessibile, ma soprattutto sarà presente, ci tengo a dirlo, durante gli stati generali, la professoressa Agnoli che è stata la direttrice scientifica del dossier di candidatura Capitale del Libro. Lei ha scritto il futuro della biblioteca di Trapani e infatti noi attueremo questo dossier in cui il centro propulsore non sarà soltanto Palazzo San Giacomo, quindi là dove c'è la biblioteca, ma anche il San Domenico che come si sa ha ottenuto il finanziamento che è già stato inappaltato. Appuntamento dunque venerdì. Venerdì 12 maggio a partire dalle 15.15 a Palazzo Milo è la sede della sorrintendenza e poi proseguirà sabato mattina dalle 10.30 in poi per poi la grande conclusione del direttore generale il dottore Angelo Piero Cappello.